Perfetto, una volta entrati nella propria pagina personale, quindi in fondo alla pagina troviamo due applicazioni, quindi una relativa all'espressione delle preferenze della provincia e la seconda invece relativa all'espressione della preferenza della sede. È chiaro che l'espressione preferenza provincia non bisogna considerarla, perché era un'applicazione e quindi lasciata sicuramente dal sistema informativo perché non hanno apportato le giuste modifiche che riguardavano le emissioni loro per il personale DSGA, che ricordiamo prima in una prima fase sceglievano la provincia e poi successivamente sceglievano la sede, quindi questa crescita qua non è da tenere in considerazione, quindi ci concentriamo esclusivamente su quello che è l'espressione della preferenza della sede. È un'informatizzazione, una procedura molto semplice, basta semplicemente cliccare su vai alla compilazione, come ti concedo troveremo tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, quindi chi sono i titolali del trattamento, le autorità di controllo e tutte queste procedure, queste che ormai conosciamo abbastanza bene. Andiamo avanti e qui troveremo l'elenco dei turni, nel nostro caso il collega è un collega che è inserito nella regione Lombardia, nella provincia di Mozambrianza, nel profilo di collaboratore scolastico. Quindi andiamo in accedi e dallo stato, sul lato destro, potremo vedere qual è lo stato dell'arte della nostra domanda. In questo caso è inserita, perché abbiamo fatto una prova, quindi una bozza, ma potrebbe essere non inserita oppure inoltrata. Quindi accedi, modifichiamo, perché abbiamo già una bozza di domanda, ci saranno tutti i dati personali dell'aspirante e poi entreremo specificamente nella pagina dell'espressione della preferenza. Innanzitutto il sistema ci chiede una cosa importantissima, quindi ci dice se vogliamo procedere oppure no con l'espressione delle sede. Quindi possiamo rispondere positivamente sì, accetto l'individuazione e procedo con la domanda, oppure possiamo dire no e rinuncio alla individuazione per le immissioni in ruolo. In questo caso, come vedete, il sistema già racchiude un pochettino, dandoci l'opzione di salvare la domanda oppure di salvarla e di inoltrarla direttamente. Rinunciare all'individuazione per la relativa immissione in ruolo, sappiamo benissimo che poi comporta la cancellazione dalla relativa gradatoria permanente che ha consentito la potenziale immissione in ruolo. oppure possiamo accettare la seconda proposta, quindi sì all'individuazione e procedo con la domanda. Andiamo quindi al modello di presentazione e abbiamo l'elenco delle sedi. In questo pannello andremo praticamente ad inserire le scuole che vogliamo scegliere e mettendolo in ordine di gradimento. L'operazione è molto semplice, basta semplicemente cliccare su aggiungi scuola, selezionare un comune dove è situata la nostra scuola, cerca, in questo caso il sistema ci evidenzia le scuole che sono presenti in quel comune, possiamo fregarne una o entrambe, selezionare, chiudere e troveremo le nostre due scuole inserite. Una volta compilato tutto l'elenco, l'elenco completo, possiamo operare anche in base a qualche ripensamento una variazione, possiamo semplicemente con le freccette andare su e giù e quindi modificare l'ordine delle scuole, quindi la prima magari la facciamo diventare seconda e viceversa. Successivamente a questa prima modalità di inserimento delle scuole troviamo la seconda parte che è relativa ai titoli di riserve di legge, quindi la legge del 68 parliamo quindi dei colleghi che fruiscono della riserva previsti, dei benefici previsti per legge del 78, cioè per in quanto invalidi. Nel nostro caso, nel caso di specie, il collega non ha dichiarato nessun titolo di riserva e quindi non ha titolo a nessuna riserva. Terza voce, scelta del comune obbligatorio. Questa voce praticamente ci dice che qualora non vi è disponibilità delle sedi indicate sopra, dobbiamo indicare un comune dal quale poi l'amministrazione partirà per cercare una sede da assegnarci. Quindi io cercherò un comune che oltre all'esetico espresso mi può, come dire, andar bene e lo cliccherò. Andiamo sotto poi, priorità di cui alla legge 104 del 92, ricordiamo sempre di fondamentale importanza che tutte le dichiarazioni che sono rese, sono rese sempre ai sensi del 445 del 2000, quindi è un'autodichiarazione con tutte le responsabilità penali e civili che comporta in caso di dichiarazione mendacia. E quindi qua poi abbiamo le quattro voci, quindi la prima voce dichiara di fruire della precedenza di cui è all'articolo 21, quindi una precedenza di legge 104 personale, perché è in possesso di un'attestazione di disabilità e una invalidità che è superiore ai due terzi. Oppure abbiamo una seconda casistica che è sempre ovviamente di natura personale, quindi precedenza per articolo 33,6 perché è in possesso di una certificazione che ha una condizione di disabilità grave, quindi con un articolo 3,3. E poi ci sono le altre due casistiche invece che sono relative alla precedenza per assistenza. Quindi si può dichiarare di fruire della precedenza di cui è l'articolo 3,3 come 5,7, quindi con gravità, articolo 3,3 e di prestare assistenza a un genitore, a un fratello oppure a una sorella. Oppure di fruire sempre nella stessa titolo di precedenza, quindi come sopra articolo 33,5 e 7, però questa volta per il coniuge o per il figlio. E quindi diciamo di trovarci magari in una di queste condizioni. A questo punto il sistema ovviamente apre un'ulteriore tendina dove dobbiamo integrare con dei dati, quindi il nome, il nome, il luogo e il dato di nascita, la residenza dell'assistito e bisogna dichiarare chiaramente che l'assistito, che il disabile praticamente non è ricoverato presso istituti di cura e che necessita quindi delle cure. Si indica altresì l'ente che ha rilasciato la certificazione indicando anche il numero di atto e la richiesta. E in ultimo, come punto poi, bisogna caricare appunto sotto forma di file PDF o una cartella o zip, la certificazione medica attestante, quanto poco anzi detto. Bene, quindi a questo punto possiamo anche procedere e salvare la nostra domanda. E vediamo un attimino se riusciamo. Allora, possiamo dare quindi il comando di salva e in ultra e cliccando, quindi infleggando che dichiarare di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali e confermare. Il sistema a questo punto pensa un attimino e ci dice che l'inoltro è stato effettuato correttamente, la domanda è stata salvata nell'archivio di istanti formato PDF e che risulta anche inviata una copia direttamente dall'aspirante sulla mail che troviamo inserita nei dati anagrafici e poi possiamo visualizzare il PDF della domanda. Un piccolo consiglio ovviamente è quello sempre di servarne una copia, custodirla anche abbastanza gelosamente, anche per evitare eventuali problemi di natura informatico. Tornando indietro quindi alla pagina delle espressioni delle preferenze, come vediamo lo stato è cambiato, quindi da semplice domanda presente in bozza, semplicemente salvato, lo troviamo il colore verde e quindi che la domanda è stata inoltrata. Quindi ritornando nella pagina iniziale è sempre poi possibile apportare qualche modifica, un ripensamento dell'ultimo momento ci consente poi successivamente di andare nel modello di presentazione della domanda o semplicemente di visualizzare oppure di annullare l'inoltro e apportare tutte le modifiche che eventualmente si sono le inizie necessarie per poi reinoltrare nuovamente la domanda. Vediamo che così la parte informatica è terminata.